Ciao, in questa serie di filmati parlerò un pochino del diritto di asilo, più di un pochino, cercando di mettere un po' di ordine tra le nozioni di rifugiato, profugo, sfollato, migrante, clandestino, eccetera. Questo è stato il mio punto di partenza quando ho cominciato a spulciare le prime carte su questo argomento. Anche se confesso che non mi aspettavo di vedere emergere questioni molto più interessanti e anche più significative, sempre intorno al diritto di asilo, ma ovviamente parlerò anche di quelle. Come sempre, prima di cominciare ci tengo a ricordare che si tratta della mia sintesi personale, basata sullo studio dei testi che ho indicato in bibliografia e filtrati con la mia testa. Quella dell'asilo è oggi una materia rigonfia di politica. Abbiamo governi che dondolano tra un fragile slancio per considerare l'immigrazione come un'opportunità e una risorsa, anche solo in termini di mano d'opera, in uno scenario europeo dove si registra una bassa natalità, e, dall'altra parte, la richiesta di politiche di contrasto ai fenomeni legati alla clandestinità, allo sfruttamento dei migranti e più in generale ai problemi di ordine pubblico, ma anche economico, che scaturiscono dai flussi migratori di massa. Da parte mia, in questa serie di filmati sarò felicissima di saltare tutto questo a più pari per occuparmi dell'asilo principalmente dal punto di vista del diritto internazionale. Perché è pieno di storia, che è esattamente quello che ci serve per capire come e perché è nato il diritto di asilo. L'asilo è il rifugio, è il posto in cui non puoi essere catturato. In antichità, l'asilo identificava un insieme di luoghi in cui l'individuo poteva sottrarsi all'attività punitiva dello Stato o alla vendetta dei privati. Era una zona franca. Capiamoci, l'idea di fondo della zona franca è esattamente la stessa del gradino di marmo nel cortile degli elementari che si usa per giocare a rialzo. Cioè l'idea è che se riesci ad arrivare lì, l'hai scampata, perché lì nessuno ti può toccare. Ecco, i greci erano un po' mitomani, quindi usavano dei gradini grossi e soprattutto sacri. Asilon, inviolabile. Alfa privativo esulao, che tecnicamente indica l'atto di prendere il nemico vinto e togliergli tutto. Significa depredare, saccheggiare, sequestrare una persona e privarla di tutto quello che possiede, dai beni alla libertà fino alla vita. Tutto questo era completamente vietato all'interno dei templi ed era una questione che i greci prendevano molto sul serio. Infatti non è infrequente ritrovarla anche nelle tragedie. Prendiamo la storia di un gruppo di donne che dall'Egitto fuggono in Grecia per cercare di raggiungere un recinto sacro presso Argo, in cui da tempo immemore è garantito l'asilo. È l'argomento di una delle prime tragedie di Eschilo, si intitola Le supplici. Quella che vedete ora è una splendida illustrazione del Mediterraneo orientale, che viene attraversato da 50 sorelle, figlie di Danao, che riescono a sbarcare nel Peloponneso e a raggiungere il recinto sacro. E quindi chiedono al re di Argo, che si chiama Pelasgo, di essere accolte e protette dentro le mura della città. Pelasgo è un tipo attento, è un re saggio, e si rende immediatamente conto che proteggere le 50 Danaidi significa entrare in guerra con l'Egitto. Quindi in sostanza chiedere al suo popolo di rischiare di morire per proteggere un gruppo di straniere? E tutto questo per una faccenda improbabile di matrimoni combinati in cui gli argivi non c'entrano assolutamente niente. Ma d'altra parte, respingere la richiesta delle Danaidi significherebbe fare infuriare Zeus, che nella mitologia greca è anche il garante dell'ospitalità e, soprattutto, è il protettore dei supplici. Quindi Pelasgo decide di rinviare la decisione al popolo di Argo, in modo che nessuno possa mai accusarlo di aver scelto autonomamente di condannare la propria città per proteggere degli stranieri. Alla fine l'assemblea decide di accogliere le supplici dentro le mura di Argo e la tragedia si chiude con l'araldo egizio che strilla una dichiarazione di guerra, mentre il re risponde levati dagli occhi qua non viviamo birra. A questo punto restano cruciali due domande. Chi chiedeva asilo in antichità e, soprattutto, a chi veniva concesso? Dicevamo che nel tempio l'individuo poteva sottrarsi alla vendetta dei privati, ma l'asilo era un istituto particolarmente importante per la condizione degli schiavi, che potevano rifugiarsi presso l'altare sotto la protezione divina per chiedere di essere venduti a un padrone più umano. E se i maltrattamenti erano gravi e le prove erano in dubbie, ottenevano di cambiare padrone. Ecco, questa cosa del padrone e dei maltrattamenti gravi tenetevi alla mente, perché se cambiamo un paio di nomi, cioè se al posto del padrone mettiamo lo Stato e i maltrattamenti gravi li chiamiamo Gross Violations, ci ritroviamo esattamente lo schema che utilizziamo anche oggi. Ma va detto che non tutti i templi erano luoghi di riparo, perché non in tutti il sacerdote autorizzava l'asilo e soprattutto garantiva l'assistenza ai fuggitivi, che quindi potevano essere costretti ad abbandonare il tempio per non morire di fame e di freddo. Ma resta il fatto che, con ogni probabilità, per un buon periodo di tempo, l'asilo è stato concesso anche ai criminali, persino quelli già condannati, cosa di cui ovviamente gli uomini avevano motivo di lamentarsi. Anzi, capitava persino che la comunità si riunisse intorno ai templi per impedirne l'accesso a un criminale in fuga. E qui arriviamo al punto cruciale che ci fa capire la differenza di fondo tra l'asilo greco e quello di oggi. Se strappi un asilante dal luogo sacro, si scatena l'ira degli dèi su tutta la comunità. Ma questo succede perché stai violando il tempio, non perché stai violando il diritto alla vita del fuggitivo. È estremamente improbabile che il divieto di cattura nel tempio avesse come scopo la protezione della vita dell'asilante. Perché in antichità non esisteva alcun principio autonomo che imponesse il rispetto della vita umana. Quindi la garanzia dell'asilo era una conseguenza dell'inviolabilità del tempio, era un privilegio specifico riconosciuto sulla base del luogo e la sua violazione era considerata un crimine contro la divinità. In sostanza per i greci il fuggitivo non era un soggetto titolare di un diritto, ma piuttosto l'oggetto dell'asilo divino. Quindi siamo lontanissimi da come l'asilo sarà inteso dalla dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. I romani invece avevano un diritto soggettivo di sottrarsi alla pena di morte, solo che non era l'asilo, era l'esilio. E ovviamente nella tradizione ebraica l'asilo è un tema centrale. L'Israele stesso è un grande rifugio per un intero popolo perseguitato. Ma in realtà il vero anello di collegamento con la nostra concezione di asilo ce lo fornisce la tradizione cristiana, perché nella chiesa come nel tempio non puoi entrare con gli stivali pesanti. In questo periodo l'asilo non è più una semplice pratica, diventa un istituto codificato del diritto canonico. Il luogo sacro offre rifugio a chi fugge dall'applicazione di pene temporali e gli concede un'opportunità di remissione dei peccati commessi. Quindi l'asilo nel diritto canonico è intriso dei valori della carità, della penitenza e dell'amore per il prossimo. Ed è proprio questo il nodo. Perché si sposta notevolmente il punto focale dell'asilo. Che non è più il timore per la vendetta divina per aver violato il luogo sacro, ma è la pietà nei confronti del prossimo. Quindi l'asilante passa da una posizione precaria e in qualche modo accidentale verso la soggettiva e autonoma aspirazione di trovare misericordia presso Dio. E naturalmente l'asilo ad oggi si è evoluto oltre il dogma religioso, quindi adesso possiamo passare ad occuparci dell'asilo politico e di quello umanitario. Passaggio fondamentale è la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 che all'articolo 2 colloca tra i diritti inviolabili la resistenza all'oppressione. E all'articolo 120 afferma che il popolo francese dà asilo agli stranieri banditi dalla loro patria per la causa della libertà. Lo rifiuta ai tiranni. E qui c'è un altro cambiamento importante, che è quello spaziale. L'asilo amplia il proprio spazio dalle mura del tempio ai confini di un intero stato, ma al tempo stesso viene limitato a particolari categorie di soggetti, e cioè coloro che sono oppressi dalla tirannia e impossibilitati a godere dei propri diritti fondamentali. Ma sicuramente la cosa più importante da notare è che, sotto l'influenza delle idee rivoluzionarie, l'asilo comincia a configurarsi come un vero e proprio diritto di colui che fugge e che chiede di essere accolto. È qui che nasce il concetto moderno di asilo, e la Francia diventa in qualche modo la paladina dei diritti di libertà, dentro e fuori dal proprio territorio. Non a caso, per molto tempo in Europa, la Francia è stata il paese ideale dove rifugiarsi, nonostante in realtà il diritto di asilo abbia acquistato piena consistenza giuridica nell'ordinamento francese solo nel 1946. Prima era tutto molto concreto e spontaneo, e questo naturalmente perché le circostanze non richiedevano niente di diverso. Ma la generale spontaneità nell'accoglienza degli asilanti si modificò in seguito ai grandi flussi migratori del XX secolo, che è stato chiamato il secolo dei rifugiati. Infatti il fenomeno dei rifugiati si presenta con tragica evidenza, soprattutto all'inizio del Novecento, quando trasferimenti, esodi di popolazioni ed espulsioni si manifestano su larga scala in conseguenza dei grandi cambiamenti geopolitici prodotti dalla Prima Guerra Mondiale, dimostrando la necessità di elaborare delle regole comuni. Crollano tre imperi europei, nascono 14 nuovi stati e si aggiungono 11.000 km di nuove frontiere esterne in Europa. Ed è qui, negli anni XX del Novecento, che la comunità degli stati comincia ad occuparsi, per la prima volta, di una particolare categoria di persone in cerca di asilo, quella dei rifugiati. Il presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa invia un messaggio urgente alla Lega delle Nazioni, dice che ci sono circa 800.000 rifugiati, soprattutto russi all'epoca, in conseguenza della Rivoluzione d'Ottobre e della Prima Guerra Mondiale, e hanno bisogno di aiuto, perché non hanno modo di trovare soluzioni, di emigrare, di stabilirsi altrove. Nel 1921, la Lega delle Nazioni decide di fare qualcosa, quindi nomina il norvegese Fritjof Nansen come il primo alto commissario per i rifugiati. E fu una mossa molto sensata. Nansen aveva molta esperienza in campo umanitario e si mise immediatamente al lavoro per risolvere una delle questioni cruciali per individuare soluzioni per i rifugiati, quella dei certificati di identità. Un semplice pezzo di carta che passa la storia con il nome di Passaporto Nansen e riesce a spianare la strada per permettere ai rifugiati di ricominciare, di spostarsi, di stabilirsi altrove e di trovare lavoro. E dicevamo che inizialmente la questione riguardava i rifugiati russi, ma ben presto si rese evidente che il problema riguardava anche molti altri gruppi di rifugiati che avevano bisogno dell'aiuto della comunità internazionale. C'erano armeni, c'erano siriani, ma c'erano anche europei in conseguenza della Prima Guerra Mondiale. Allora, la Lega delle Nazioni comincia ad assegnare nuove responsabilità all'alto commissario. Si tratta di elaborare risposte ad hoc per ciascuno dei nuovi gruppi di rifugiati. Quindi non c'è un sistema vero e proprio, ma possiamo ritrovare due elementi comuni, due caratteristiche che permettevano di capire chi poteva beneficiare di quelle risposte. In primo luogo, il rifugiato veniva identificato in riferimento alla sua nazionalità o all'appartenenza ad un gruppo etnico. E in secondo luogo, doveva trovarsi nella condizione di non poter godere della protezione del proprio stato di origine. Ora, tra gli anni 20 e gli anni 30, si susseguirono diversi tentativi di cercare di creare un sistema un po' più ordinato e che potesse garantire protezione a un numero di rifugiati che in realtà continuava a crescere, in particolare per tutti quelli che fuggivano dai regimi fascisti e nazisti. Negli anni 30 ci fu una vera e propria crisi di rifugiati, ma gli stati europei, Francia compresa, si mostrarono improvvisamente molto recalcitranti all'idea di aprire le proprie frontiere. E questo certamente anche in conseguenza della grande crisi, il crollo di Wall Street. Nel luglio del 1938, il presidente degli Stati Uniti, Roosevelt, convocò una conferenza in Francia, Evian, nel tentativo di trovare una soluzione all'aumento dei rifugiati ebrei provenienti dalla Germania nazista. Ma la conferenza fu un fallimento totale, non ci fu nemmeno una condanna ufficiale nei confronti del regime, e si salutarono con un sorrisino e la speranza che la Germania nazista avrebbe lasciato partire tranquillamente gli ebrei e con loro magari anche altre categorie di soggetti indesiderati e naturalmente che gli altri stati avrebbero aperto le porte, si sarebbero mostrati molto attenti, molto gentili, avrebbero accolto tutti. Ecco, non è andata esattamente così, contando che sono state esterminate milioni di persone. Ma, per quanto possa sembrare strano, quel sistema creato dalla Lega delle Nazioni in realtà continuò ad operare anche nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Anzi, nel 1943 fu anche istituita un'organizzazione dedicata, ma in riferimento ai rifugiati il suo scopo era principalmente il rimpatrio e serviva soprattutto a fare in modo che non dovessero occuparsi negli eserciti, che così potevano continuare a condurre le ostilità. Quello che questa organizzazione non poteva fare perché non ne aveva il mandato era individuare soluzioni per i rifugiati che non volevano ritornare nel loro paese di origine alla fine del conflitto. Poi nel giro di pochi anni in realtà sorgerà un'altra organizzazione che invece intende il rifugiato come qualcuno che non può o che non vuole ritornare nel suo paese di origine. Ma prima di parlarne dobbiamo fermarci un momento a spulciare uno statuto che è stato firmato a San Francisco il 26 giugno del 45 e che è quello delle Nazioni Unite. C'è una frase che ci interessa. Nessuna disposizione del presente statuto autorizza le Nazioni Unite a intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato. Ecco, questo principio di non ingerenza è stato molto determinante nel definire le modalità con cui le Nazioni Unite hanno istituito le agenzie per i rifugiati e ne hanno definito i mandati. Proprio perché i rifugiati sono essenzialmente stranieri. E non c'è molto da fare. Le norme internazionali sul trattamento degli stranieri continuano ad appartenere in qualche modo alla vecchia scuola. Quella che prende in considerazione gli individui non in quanto titolari di veri e propri diritti di natura sostanziale ma in quanto pertinenze di altri Stati. E perché? Perché è una questione che tocca dei nervi sensibilissimi. Quelli costitutivi dello Stato. C'è il popolo, c'è il territorio, c'è la sovranità, c'è il controllo delle frontiere e lo Stato-Nazione è fatto di questo. E ancora oggi si dimostra piuttosto geloso delle sue prerogative e sicuramente poco incline all'idea di cedere una competenza, quindi una fetta di sovranità in materia di asilo. Anche quando tenersela stretta è controproducente. Ma ritorniamo agli anni 40 o meglio al febbraio del 1946 in occasione della prima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nella risoluzione numero 8 si dichiara tra l'altro che quello dei rifugiati è un problema internazionale sia in termini di portata che in termini di natura. E no, non è una frase da poco perché l'idea di fondo è che nessuno Stato debba sopportare da solo il peso della responsabilità nei confronti dei rifugiati. L'Assemblea Generale assegna al Consiglio Economico e Sociale il compito di istituire un'agenzia internazionale con l'obiettivo di promuovere la cooperazione tra gli Stati e individuare soluzioni per i rifugiati. Ma non è possibile negare che in quel momento la questione dei rifugiati fosse piegata al gioco della propaganda. Non di meno, il Consiglio Economico e Sociale istituisce l'Organizzazione Internazionale per i Rifugiati che tra il 1946 e il 1952 aiutò più di un milione di persone a stabilirsi in altri paesi, soprattutto oltreoceano, mentre solo i 77.000 fecero ritorno in Est Europa. E questo appunto perché molti paesi occidentali, soprattutto gli Stati Uniti, non avevano alcun interesse nel cercare di rimpatriarli e far passare quindi l'idea che l'Unione Sovietica fosse un posto vivibile. E da parte sua l'Unione Sovietica non aveva alcun interesse a sostenere l'organizzazione che a suo dire dava una via di fuga a criminali di guerra e sovversivi. Quindi l'IRO divenne una specie di tavolino da braccio di ferro per la guerra fredda, uno dei tanti. E aveva anche dei grossi problemi con il budget, quindi non le rinnovavano il mandato e chiuse i battenti. Nel frattempo, nel 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che all'articolo 14, paragrafo 1, recita Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi di asilo dalle persecuzioni. Che in realtà è una frase strana perché è come se offrisse qualcosa al rifugiato per poi riprenderselo un attimo dopo. E questo perché? Perché cercare e godere di asilo non significa avere garantito l'asilo. In termini un po' bruschi vuol dire che hai il diritto di scappare ma che nessuno ti garantisce che verrai protetto. E questa è tuttora una grossa lacuna nel sistema internazionale della protezione. E naturalmente non è casuale, c'è un motivo se è stata scritta così. Anzi, è molto interessante andare a vedere il dibattito che poi ha prodotto questa formulazione. Il governo francese ad esempio voleva che fosse formulato nei termini di un diritto di cercare e un diritto di vedersi garantito l'asilo mentre altri stati incluso il Regno Unito sostenevano che quella formulazione fosse troppo rischiosa che fosse lesiva del principio di sovranità sulla base del quale sono gli stati da sempre a decidere chi ammettere e chi no. quindi ad oggi abbiamo un semi quasi diritto di asilo la dichiarazione universale di diritti umani è stata il primo atto con valenza giuridica internazionale a occuparsi dell'asilo ma non è vincolante è una dichiarazione non è un trattato multilaterale quindi la sua importanza è quella simbolica di pronunciare solennemente i principi fondamentali destinati a influenzare le politiche dei singoli stati e fermare i diritti dell'individuo come punto focale del diritto internazionale ma ora torniamo alle agenzie per i rifugiati abbiamo detto che l'IRO chiude i battenti quindi bisogna trovare qualcos'altro vengono formulate diverse proposte e il primo gennaio del 1951 in seguito alla risoluzione 428 dell'assemblea generale nasce l'alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati con sede a Ginevra che ha il duplice obiettivo di proteggere i rifugiati e di individuare soluzioni durature per l'intera questione assistendo i governi nel rimpatrio o nell'assimilazione in un nuovo stato e arriviamo al 28 luglio dello stesso anno il 1951 sempre a Ginevra quando si concludono i lavori della convenzione delle nazioni unite sullo status dei rifugiati che però mi piace molto quindi voglio riservarle un filmato tutto per lei e sarà il prossimo di questa serie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti